Si è distante Sì, sì, sì Vuoi sapere come mi sono fatto questi genetichi? Guardami! Don una sera, mio padre da di matto ancora più del solito Mia madre prende un coltello da cucina per difendersi Mi raccolpisce con il coltello ridendo Mentre lo fa, mentre io li guardo Vuoi si gira verso di me Mi dice, perché sei così serio? Si avvicina con il coltello Perché sei così serio? E mi fica la lama in bocca Mettiamo un bel sorriso su quel faccino Perché siete così seri? Dai, un bel applauso per Emanuele Grazie a tutti Grazie a tutti Adio Grazie a tutti Grazie a tutti